L'acciaieria Arvedi ha ottenuto dall'amministrazione provinciale un anno in più per completare l'iter autorizzativo della nuova discarica che potrebbe sorgere accanto alla cava di Grumello, tornata ormai in attività dopo la chiusura seguita alla scoperta di una discarica abusiva da parte della magistratura. Ormai da diversi anni il gruppo siderurgico cremonese ha acquistato la proprietà di un terreno a lato della cava per insediarvi una discarica di rifiuti anche pericolosi con impianto di trattamento. In conferenza dei servizi il comune di Grumello, anni fa, ha votato no, ma è andato in minoranza rispetto alla volontà dei comuni vicini. L'azienda siderurgica ha ottenuto la compatibilità ambientale con un centinaio di prescrizioni. Resta ancora un ostacolo alla realizzazione della discarica e non da poco. Serve infatti l'autorizzazione integrata ambientale con una nuova conferenza dei servizi. La tensione intanto sta salendo a Grumello al punto che la minoranza sta preparando un'interrogazione alla giunta guidata dalla sindaca Maddalena Visigalli con assessora all'ambiente Barbara Gamba. La situazione è che ci è arrivato come un fulmine sereno questa informativa che dice che è stato riniziato l'iter in quanto erano scaduti i termini, ma noi non abbiamo nessuna documentazione relativa al dissequestro del sito. Infatti il sito era sotto sequestro e doveva essere bonificato e non abbiamo ricevuto nessuna documentazione in merito. Intendiamo fare un'interrogazione alla maggioranza per vedere se sono stati seguiti tutti gli iter e soprattutto a che stato è la bonifica del sito e inoltre anche per quanto riguarda le verifiche dei materiali che saranno smaltiti, che devono essere in sicurezza soprattutto per i cittadini di Grumello e per la falda qui tra che c'è a Grumello.